L'idea Web TV con Veronica Taborelli, opposto della LPM Ban Mondo V. Veronica, la prima partita della stagione non è andata come volevate, come avete lavorato in settimana per provare a rimediare? Sì, diciamo che sapevamo comunque che sarebbe stata una partita difficile, però ovviamente essendo la prima non ci siamo assolutamente buttate giù di morale, anzi stiamo facendo una bella settimana ricca di allenamento. Al solito e cerchiamo sempre di migliorare di settimana in settimana. Olbia è una squadra che pare avere un ottimo potenziale offensivo. Come ti aspetti e come ti immagini la partita di domenica? Sarà un'altra partita difficile anche perché loro arrivano da un sconfitto, quindi anche loro avranno voglia di riscattarsi. Sarà una bella guerra, dai! Sei alla prima stagione a Mondo V, ma ti sei già riuscita a guadagnare i gradi di vicecapitano. In una squadra con tanti nuovi arrivi, come procede l'amalgama del gruppo? Sì, infatti sono contentissima di questo ruolo e spero di riuscire a ricoprirlo al meglio. Siamo tutte ragazze nuove, ma comunque tutte giovani e diciamo che sia dentro che fuori dal campo riusciamo a stare tanto tempo insieme, quindi a creare molto di più un'amalgama e un gruppo bello. E in generale come ti stai trovando a Mondo V in questi primi mesi di vita, diciamo? Per ora molto bene, molto bene. È iniziato il primo freddo, speriamo che duri poco d'anno. Grazie mille! Grazie!